Senza esagerare, con l'esperienza di chi opera nel settore da anni, si può tranquillamente affermare che una famiglia con due figli spende più di 1000 euro per acquistare libri, corredo scolastico e cancelleria. Oltre 300 euro a testa di libri, specie per le prime medie e le prime superiori, a questi si aggiungono i costi dello zaino, dell'astuccio, degli accessori vari e si arriva tranquillamente ai 500 euro. E quest'anno costa tutto più caro anche a causa dell'inflazione. Quest'anno naturalmente c'è un discorso che riguarda anche l'aumento prezzi dovuto all'inflazione, che non si attesta sull'inflazione ma sui libri di testo stiamo tra il 5 e il 7 per cento di aumento dei costi dei libri. Il corredo è aumentato più dei libri. Il corredo è aumentato circa mediamente tra l'8 e il 10 e il 12 per cento a seconda degli articoli, naturalmente sono aumentati di più quelli griffati, si sono contenuti un po' di più invece i prezzi sugli articoli non di marca. Cosa si spende dunque in più a figlio rispetto allo scorso anno? In più credo, prendendo appunto tutto, ci attesteremo su un centinaio di euro, in più compreso il corredo. Costa qualcosa meno se un figlio frequenta le classi intermedie delle scuole e non le prime. Per la seconda area di primo grado, naturalmente seconda e terza media, hanno un corredo basilare, ovviamente che riguarda soltanto mali materiali di consumo e ovviamente qualche libro di testo, che sono le prosecuzioni. Lo stesso vale anche per le superiori. Le seconde, quarte e quinte hanno un costo relativamente più basso. Le terze superiori invece si rinnova un po' tutto il parco materie, quindi con i libri di testo nuovi. Voi librai cosa consigliate rispetto alle nuove edizioni dei libri? Bisogna comprare per forza il libro nuovo? Ma allora, le nuove edizioni sono frequenti, ahimè, purtroppo. Ecco, noi naturalmente con i nostri clienti cerchiamo di valutare i libri che hanno in possesso, se sono ancora attendibili per l'anno successivo. Tant'è vero che se dovessero esserci delle nuove edizioni, diciamo, aspetta ad acquistarlo, prova a confrontarlo con quello che hai a casa e vedi l'insegnante e si ti dice, va bene anche questo, ecco, quindi auspichiamo che possa andare bene. Nessuna ressa in libreria in questi giorni perché le famiglie hanno già ampiamente ordinato tutto e in tanti casi anche già ritirato.